La manovra illustrata dai direttori generali Marsico e Pafundi ammonta per il 2015 a circa 400 milioni di euro, comprensiva della reiscrizione delle risorse vincolate e non impegnate nell'esercizio 2014, risente dei tagli effettuati dal Governo nazionale e della diversa entità delle royalties a causa del calo vertiginoso delle quotazioni del petrolio avvenuto nel 2014. A fronte dell'ingasso previsto, 165 euro, vi è stata una disponibilità pari a 148 euro, 24 milioni di euro in meno. La manovra approvata dall'Aggiunta concerne soprattutto la sanità. In materia di coesione sociale, il contributo straordinario alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera è pare di un totale di 20 milioni e 450 mila euro. Per il Comune di Potenza il finanziamento complessivo è di 32 milioni e 300 mila euro, previsto poi un fondo regionale per la concessione di un contributo straordinario destinato a sostenere le difficoltà finanziarie dei Comuni relative alle annualità 2015-2016 e 2017.